tre giorni alla scoperta del comune di bar e della bassa valle tre giorni di incontri presentazione di libri escursioni guidate degustazioni ed eccellenze enogastronomiche la prima edizione del festival in trecci la voce dei territori è andata in scena nel borgo location naturale per parlare di turismo lento e sostenibile per accogliere le testimonianze e le esperienze di chi cerca e vuole scoprire l'italia più nascosta e più autentica ai piedi del forte le magliette blu dei promotori del festival il quotidiano ostasera e passaggio nord ovest sostenuti dall'amministrazione comunale hanno accompagnato i partecipanti alla scoperta del passato e del presente di bar hanno intrecciato le riflessioni e i racconti su cammini borghi e montagna e hanno condiviso i sapori delle aziende agricole e i saperi degli artigiani che a bar hanno offerto un lato autentico della valle d'aosta e e Grazie a tutti.